Benvenuti sul canale Revival Zone, io sono Reverendo e benvenuti alla terza puntata della Martina 18.15. Andiamo a caricare immediatamente la partita. Allora, passiamo a Kenzo. Allora, intanto questo utilizza il fuciliano di energia. Poi mettiamo questo che lo abbiamo caro, che sicuramente ce ne farà qualcosa. Esamino munizione piccolo. No Motion Research Space. Eh però ragazzi, c'è... Oh... C'era pure qualcosa. Dico io, eh. Allora, intanto apriamo la porta. Ma la fa il culo. Adesso ho usato la siringa. Ah, ma la no. Allora. Non mi sgonfio. Adesso velocizzo la cosa, perché visto che ci sono moto... Siamo pieni. Siamo pieni. metto giù della roba. C'è un patucco qui. Bello, 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 bello. Allora, mettiamo giù questo. Poi abbiamo detto che mettiamo giù questo. 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 Pallone sgonfio. Appunti. E la Bibbia. Che tanto voglio angioletta. Molto bene. Vediamo il back tube. Parca puttana che comandi di merda. Ma come si faceva a giocarlo una volta così? Mamma mia. Mamma mia. Allora, Kenzo è in una zona sicura. Quindi io direi che possiamo anche essere qua. Utilizzo la posta. Allora, gli diamo la graffetta. Questa qui. Cos'è? Cinghia di trasmissione. E' a posto. Ora. Cambiamo personaggio. E io direi di far così. Attenzione. Salvi il gioco. Perché se Ciri muoio almeno parto da qui. Ok. Adesso lui si tira su immagine. Poi che andiamo a posta pneumatica. Dio Bono. Allora. Aspetta un attimo la porta. Da aprire era. Cazzo. Ehi, por che fai? Aha, I like it when a door opens. c'è cara, ha una voce, non lo so, ti rilassa, è proprio rilassata, c'è in mezzo all'epidemia zombie su un altro pianeta e l'ho rilassata, allora, bisogna una freccetta, prima non ci aveva dato il mio, oh no, la chiave del cassetto dello studio, la prendiamo, poi c'era questa schifezza qui, non sono i facili di una pistola giocattolo, dobbiamo prenderla, potremmo spaventare attraverso il modo, oro, ja, mi tanto ho, no, non lo so, l'ho, no, non si ucc. , è un progetto, è un progetto. Oh, 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 e dove, ok. ok e adesso faccio così poi colere il cadavere questo è verde ciao bello no ma vaffanculo dai che ci muoio dai che ci muoio non 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 poi ragazzi dopo fatti questi passi che secondo me sono passi importanti e adesso vado a salvare faccio piccole partite così almeno non vi staccate e e allora qua una volta è una scalzone che è che è che è che 10 saluta gb e ora ragazzi noi ci salutiamo e ci vediamo alla quarta puntata la prossima volta bai bai non 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 non